Il furgone è di un mio amico, devo dare la metà a lui di quello che guadagno. Ti prego, ti chiedo scusa, facciamola finita. Tu porti fortuna! Tu bella donna italiana! Di cosa parlava quella poesia? Di un becchino che seppelisce un poeta, che bestemmia e fuma sulla sua tomba. E sputa? Sì, sì, e sputa. Un po' ho capito. È una lingua che si legge come si scrive, e le parole si accordano con quelle accanto, quindi per esempio, se c'è un femminile, tutto diventa femminile. Siamo molto galanti, sai? Siamo malati. Grazie.